I fratelli Bandiera Chi sono? Sono due fratelli di nome Attio ed Emilio Bandiera e sono due ufficiali veneziani che si sono arruolati nella marina austriaca Cosa hanno fatto? Hanno tentato di fare insorgere la popolazione crablese contro il regno di Ferdinando II ma non hanno avuto successo e sono anche stati catturati e fucilati entrambi nel 1844 Con chi vanno in contatto durante i viaggi in mare? Durante i viaggi in mare vanno in contatto con degli ai suoi politici protagonisti dei mutili del regno precedente Cosa fondano? Fondano la società segreta di nome Esperia nel 1841 Dove prestano servizio? Prestano servizio entrambi sulle navi comandate dal padre Cosa sviluppano? Sviluppano idee unitarie e libertarie e si sono ispirati al progetto politico di Giuseppe Mazzini e hanno fondato una propria società segreta Buongiornoní governo ska Grazie a tutti.